Casa base immobiliare vende una bellissima villa a Pino Torinese, zona San Felice, via Monte Rotondo. Una villa indipendente libera su quattro lati di circa 300 metri quadri, disposta su due livelli più sottotetto. La villa ha un meraviglioso parco di circa 3000 metri quadri a terrazze pianeggianti. Vi porto subito a vedere la vista perché è spettacolare e vi faccio anche vedere dove siamo. Questo è il parco della villa e la linea di confine è più o meno dove ci sono quegli alberi rossi. Sono terrazze pianeggianti, quello che vedete laggiù è Pino Torinese, qui davanti abbiamo Valle Ceppi e dietro quella vallata Cecchieri. La posizione è una posizione assolutamente soleggiata. Vi faccio vedere da dove sono entrata. Quello è il cancello, dove c'è questo grande cortile qui davanti. La casa internamente è allo stato originale ma ha una bellissima pianta dove si può, come dire, lavorare bene. Sono circa 100 metri a piano. Voglio portarvi qui sotto a vedere, prima di entrare in casa, tutta la parte bellissima di garage, cantine, tavernette. Il punto di forza, secondo me, di questa casa è veramente la posizione e gli spazi esterni. Anche internamente ha una dimensione che è una dimensione assolutamente gestibile. E soprattutto internamente si può lavorare molto bene sul progetto perché non ci sono troppi vincoli strutturali. Questo è il garage doppio, come vedete viene utilizzato come tavernette, sala giochi. Quelle porte che vedete laggiù sono le porte della cantina. Voglio farvi vedere il parco perché è veramente molto molto bello. Torniamo su e finalmente vi porto a vedere la casa. Non è tanto, secondo me, lo stato attuale, ma dovete cercare di vedere gli spazi. Questo è l'ingresso principale della casa. Ce n'è anche uno secondario da dove si può entrare da dietro. Entrando qua, quello che vi dicevo, dovete immaginarvi due quadrati uno sull'altro. Questo, per esempio, non è un muro portante. Quindi, volendo qui, io posso buttare giù tutto e creare una grande zona giorno. La cucina, in questo momento, è qua. La casa, essendo libera su quattro lati, ha finestre ovunque da cui entra la luce. Andiamo di qua. Qui c'è, diciamo, l'attuale soggiorno. Che esce su questo bellissimo terrazzo. Qui abbiamo uno studio. Come vi dicevo, quello che dovete guardare è veramente la geometria degli spazi, immaginarvela con una ristrutturazione più contemporanea. Qua abbiamo un bagno e qui un altro salottino, quella porta che vedete è il secondo ingresso. Andiamo su, al piano di sopra abbiamo tre camere, un bagno e una lavanderia. Eccoci qua. Camera matrimoniale con una bellissima vista sulla vallata. Vi faccio uscire di qua, da questa camera, dove c'è un altro terrazzo. Quella porta è la porta della camera matrimoniale che abbiamo appena visto. La camera studio, la lavanderia e un bagno. Adesso vi porto al piano sottotetto. Eccoci qua. Non è un sottotetto abitabile, ma è utilizzabile. In questo momento è uno studio, libreria, area degli hobby. Per tutte le altre informazioni potete collegarvi al sito dell'Agenzia all'indirizzo casabasaimmobiliare.com Bello! Bello! UTRE!